Musica Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione di RTV38 che vi racconta i lavori del Parlamento Toscano, il Consiglio regionale. In apertura parliamo di carceri, delle carceri della Toscana. Abbiamo vissuto all'inizio d'estate con temperature altissime le cronache che ci hanno raccontato di condizioni di invivibilità all'interno dei nostri penitenziari legati al grande caldo. Ma questo è stato solo l'ultimo dei problemi. Ci sono come sempre anche i temi del sovraffollamento e c'è il tema delle cure in carcere per i detenuti. Una fotografia di questa situazione del quadro regionale della vivibilità della condizione carceraria l'ha scattata il garante dei diritti dei detenuti, Giuseppe Fanfani, che ha presentato la propria relazione all'aula del Palazzo del Pegaso. Salute mentale dei detenuti, sistema delle REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e completamento del sistema sanitario in carcere. Quanto già fatto in positivo, deve essere monitorato e implementato. E quanto chiede la proposta di risoluzione approvata a maggioranza in Consiglio regionale, con 22 voti a favore e 10 contrari, redatta sulla base dell'attività svolta nel 2021, dal garante regionale Giuseppe Fanfani. Nell'atto, illustrato dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani, si ribadisce anche l'impegno ad assicurare le finalità rieducative delle pene, il reinserimento sociale dei condannati, l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, e la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all'interno di tutte le strutture penitenziarie. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione dell'attività del garante dei detenuti per l'anno 2021 e anche il programma di attività per il 2022. Una relazione che ci offre un quadro del sistema carcerario toscano, evidenza le problematiche dell'affollamento, mette in luce le caratteristiche strutturali degli istituti di pena, delle REMS e anche dei carceri minorili della Toscana, si concentra sul tema della tutela della salute dei detenuti. Del resto la vocazione del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà è proprio quella di prendere in considerazione la tutela della salute, non soltanto fisica ma anche psichica, della popolazione carceraria. Il contatto che il garante ha con questo mondo viene anche dalle numerose istanze che vengono presentate dalla popolazione carceraria e prese in carico proprio dal garante. Il quale fa anche un auspicio, un auspicio che i comuni che ancora non si sono dotati del proprio garante lo facciano al più presto anche in virtù di una più intensa collaborazione che il garante dei detenuti ha intrapreso con il provveditore regionale del Ministero della Giustizia con il quale nel corso del 2021 è stato proprio siglato un protocollo. Un impegno a implementare l'assistenza ai detenuti sotto il profilo della tutela della salute negli istituti di pena, un impegno a prendere in considerazione la popolazione carceraria femminile soprattutto per la valutazione di misure alternative alla detenzione e anche un impegno congiunto con la prima commissione del Consiglio regionale che è quella di fare visita a tutti gli istituti di pena della Toscana. La prima commissione ha già iniziato con la visita al carcere di Solliciano, il carcere più importante e dal punto di vista numerico che abbiamo in Toscana proseguirà nei prossimi mesi con le visite a tutti gli istituti di pena del nostro territorio regionale. Condivido quanto scritto nella relazione sulla pandemia. In un momento eccezionale sono state fatte opportune scelte eccezionali, ha detto il Vice Presidente del Consiglio Marco Casucci. Poiché il sovraffollamento nel periodo Covid avrebbe potuto comportare rischi troppo alti. Positivo per Casucci anche che al 31 dicembre i detenuti fossero 3.028 rispetto ai 3.556 dell'anno precedente. Un plauso è arrivato ai medici di medicina penitenziaria e preoccupazione per un eventuale ricorso al 118. Critiche invece dalla Lega sulle condizioni carcerarie dove prevale la malavita. Inaccettabile che carceri siano luogo dove i più forti prevalgono. Abbiamo votato anche quest'anno contro la relazione del garante dei detenuti. La prima osservazione che mi viene da fare è che in sé la figura del garante dei detenuti è superata. Occorrerebbe una figura di tutela per chi opera e vive nel mondo carcerario. Al di là dei detenuti anche le guardie carcerarie e gli educatori. Sono figure che meritano anch'esse considerazione e tutela da parte delle istituzioni. Abbiamo votato contro la relazione del garante che troviamo non condivisibile in numerose sue parti. In particolare per quanto riguarda quella concezione per cui sarebbe quasi la società malata a dare lo spunto, a creare le basi per la produzione di reati. Noi invece diciamo che la responsabilità penale, secondo il dettato costituzionale, è personale. Vero è che le pene devono tendere alla rieducazione di coloro che hanno commesso degli sbagli. Ma è il principio per cui chi sbaglia paga deve trovare finalmente attuazione anche nel nostro Paese. Quindi sì, attenzione, tutela, soprattutto sanitaria, quando invece sappiamo che ci sono dei rischi di ridimensionamento del servizio sanitario all'interno delle carceri, nei confronti dei carcerati, ma anche l'attuazione del principio chi sbaglia paga. Un principio fondamentale perché nel nostro Paese si tende troppo spesso a non far pagare a chi ha sbagliato. Dopo tanti mesi difficili con la pandemia, sebbene i contagi siano ancora numerosi, questa è l'estate della ripartenza, del ritorno alla normalità sotto tanti aspetti in tanti settori, compreso quello degli spettacoli, della cultura. Si torna con le manifestazioni anche di piazza, si torna agli appuntamenti culturali, torna un cartellone molto importante nel panorama culturale toscano, quello del Cartiere Internazionale dell'Arte di Montepulciano. 36 appuntamenti e 320 artisti provenienti da tutto il mondo che dal 16 al 31 luglio porteranno i loro spettacoli musicali a Montepulciano e nei borghi simbolo della Val di Chiana Senese. Torna al 47esimo Cantiere Internazionale dell'Arte con la direzione musicale di Marc Nieman. Tra gli artisti di questa edizione spiccano i nomi della Nippo statunitense star del piano internazionale e del regista francese Vincent Bussard, del primo ballerino di Hamburgo Alexandre Riabco, del direttore d'orchestra Human Ruits e lo storico ensemble milanese Sentieri Selvaggi, guidato da Carlo Boccadoro. È la 47esma edizione del Cantiere Internazionale d'Arte, è una realtà a Montepulciano molto consolidata, che offre 15 giorni di eventi culturali molto importanti, non solo su Montepulciano, sulle varie location sparse per il paese, ma avendo l'adesione dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese, fa cultura itinerante anche nei paesi che sono aderenti al Cantiere d'Arte stesso. Devo dire che non banta soltanto eventi culturali, il Cantiere d'Arte Internazionale produce musicisti, è una scuola di musica vera e propria con molti docenti, molti studenti, se ne contano nel tempo migliaia, che molto spesso raggiungono qualifiche che le portano a suonare anche in orchestre molto qualificate. Ricordo l'ultimo evento al maggio musicale, prima di Natale, c'era presente anche un musicista che era nato nelle scuole del Cantiere d'Arte Internazionale. È un evento che richiama moltissime persone, vari tipi di musica, danza, anche installazioni particolari nel territorio. E che possiamo sicuramente dire che è un evento molto qualificante per tutto il territorio di Montepulciano e l'Imitrofo. In questo appuntamento con la voce del Consiglio vogliamo dare ampio spazio anche allo sport, perché il Consiglio regionale ha voluto rendere omaggio a due realtà, due realtà importanti, una nel calcio, l'altra nel tiravolo. Iniziamo con quella calcistica e stiamo parlando dell'Aquila Montevarchi, una delle società più vecchie d'Italia, la più vecchia in Toscana, che ha festeggiato i suoi 120 anni e anche il Consiglio ha voluto omaggiare la società. Una targa del Consiglio regionale della Toscana per ricordare i 120 anni di storia sportiva dell'Aquila Montevarchi 1902, la più antica società calcistica della Toscana. È stato il presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio Mazzea, a consegnare riconoscimento nelle mani del vicepresidente del club, Andrea Romei. 120 anni di storia sportiva, patrimonio e prestigio della nostra comunità e la motivazione incisa sulla targa. Il conferimento è stato deciso all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza, grazie alle iniziative del vicepresidente Marco Casucci e del consigliere regionale Gabriele Veneri. Oggi viene dato il riconoscimento dalla regione toscana alla squadra Aquila di Montevarchi, che compie quest'anno 120 anni in interrotti, la società calcistica più antica e più longeva della regione toscana. 120 anni nel territorio, vicini alla gente e con un grande ruolo sociale, quello di unire un'intera comunità sotto i colori rosso e blu e sotto la bandiera dell'Aquila Calcio. Grande impegno da parte dell'amministrazione comunale che ha investito energie e denari per rifare lo stadio e quindi una comunità vicina e sicuramente un grande senso di appartenenza che questo riconoscimento saprà esaltare. È un giorno bello, un giorno importante per la Toscana, per Montevarchi. Premiare la società Aquila Montevarchi per i suoi 120 anni, per essere la società più longeva della Toscana, dà il senso del nostro attaccamento al territorio, la necessità di investire sui più giovani, sui vivai, a costruire le condizioni per cui i ragazzi possano avvicinarsi allo sport sempre meglio. Consentitemi di ringraziare il vicepresidente Casucci, il collega Veneri, per aver voluto questo riconoscimento che è un riconoscimento a chi investe sullo sport e un riconoscimento a chi investe sul territorio. L'altra realtà sportiva importante omaggiata dal Consiglio regionale in questi giorni è in realtà un atleta, Alessandro Gaetani, un atleta pisano, specialista, campione del tiro a volo in una specialità non olimpica, il Compact Sporting, ma questo non significa che lui non abbia potuto portare medaglie importanti che alzano ulteriormente il blasone della Toscana in questa disciplina c'è una storia e ci sono atleti anche in recente passato che hanno dato lustro alla nostra regione nel tiro a volo. Gaetani è campione europeo e mondiale. I numerosi e prestigiosi meriti del campione di tiro al volo Alessandro Gaetani, celebrati a Palazzo del Pegaso con la consegna di una targa del Consiglio regionale. Alessandro Gaetani, 55enne, originario di Ponte Egola in provincia di Pisa, da dieci anni pratica il Compact Sporting, una delle discipline di tiro al piattello. Al campionato mondiale disputato in Ungheria, si è giudicato l'oro nella competizione a squadre e il bronzo nell'individuale. La mia carriera inizia nel tiro a volo una decina di anni fa in maniera un pochino più importante, ho sempre sparato, ma a livello dilettantistico. Una decina di anni fa ho cominciato in maniera un po' più importante. Da un paio d'anni sono riuscito a ottenere delle belle soddisfazioni. L'anno scorso ho vinto un campionato mondiale di Compact Sporting e un campionato europeo. Quest'anno ho rivinto l'europeo, quindi diciamo che è andata molto bene, più che soddisfatto. Lo scorso anno gli demmo un riconoscimento in sala consigliare, però ora abbiamo detto che non basta più, ecco l'ambito comunale, bisogna andare minimo nell'ambito regionale. Sono molto felice, l'ho accompagnato molto volentieri in questo palazzo, dove è la casa di tutti i toscani, perché è un toscano e un sanminiatese, un pontaegolese, che ha portato in alto i colori anche della Toscana. È naturalmente una carriera in itinere, presto andrà anche ai mondiali, che si svolgeranno a Orvieto, quindi chissà che non arrivino altri a loro. Io sono molto felice perché, ripeto, un così grande campione, averlo come proprio concittadino mi fa molto piacere. È tutto anche per questo appuntamento con la voce del Consiglio. Io vi ricordo che potete restare informati sui lavori del Consiglio regionale visitando il sito www.consiglio.regione.t. La nostra trasmissione invece torna la prossima settimana. Arrivederci. Grazie.